Passiamo all'interrogazione numero 328 dei deputati Luigi Gallo ed altri concernente iniziative per l'assunzione in ruolo del personale precario della scuola. Il deputato Duva ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Un minuto. Grazie Presidente. Signore Ministro, a causa delle scelte politiche assunte dai governi precedenti, l'attuale sistema scolastico pone la sua fondamenta sul personale docente e ATA assunta attraverso contratti annuali, ovvero precario. Questo personale precario, che con dedizione e professionalità non inferiori a quelle del personale di ruolo ha garantito negli ultimi anni il funzionamento del sistema scolastico, permettendo una crescita culturale e civile dei cittadini del futuro, viene in cambio privata del proprio di futuro, attraverso un sistema che non dà loro alcuna certezza né alcuna garanzia. Lei stessa, Signora Ministro, in sede di audizione in Commissione, ha espressamente richiesto di dare un serio segnale al personale precario. Attraverso l'elaborazione di un nuovo piano per il triennio 2014-2017 per l'assunzione del ruolo dello stesso personale, piano che in realtà sembrerebbe disporre il solo assorbimento di 44.000 unità coincidenti con il turnovo previsto nello stesso arco temporale, unità da attingere da gradatori, concorsi e TFA. Anche per il prossimo anno scolastico gli effetti della riforma Fornero avrebbero ridotto le domande di pensionamento da quello che si apprende ai sindacati. Grazie, ha esaurito il suo tempo, mi dispiace. Il Ministro dell'Istruzione e dell'Università della Ricerca, Maria Chiara Carrozza, ha facoltà di rispondere per tre minuti. Grazie, onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Si ricorda che per garantire stabilità e continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e per conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, l'articolo 9 del Decreto-Legge numero 70 del 2011 ha previsto la definizione di un piano triennale di ossunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e data per il triennio 2011-2013. L'attuazione del piano ha consentito di ridurre l'entità del personale precario della scuola, con ciò rispondendo all'esigenza di allineare il sistema nazionale alle normative comunitarie concernenti i contratti a tempo determinato, materia sulla quale si è recentemente sviluppato un significativo contenzioso davanti ai giudici del lavoro. Nell'anno scolastico 2011-2012 è stato possibile assumere 33.000 unità di personale docente ed educativo, nonché 36.000 unità di personale ATA, mentre per il successivo anno scolastico sono stati messi in ruolo 21.000 docenti ed è stata richiesta l'autorizzazione per circa 5.300 unità di personale ATA. Nell'anno scolastico 2013-2014 il suddetto piano triennale giungerà a conclusione con la richiesta di immissione in ruolo di 15.000 precali circa e potrà essere avviata la programmazione delle nuove assunzioni, previa verifica delle disponibilità esistenti. Proprio per l'anno scolastico 2013-2014 le nomine saranno necessariamente limitate al numero suddetto. attesa l'incidenza preponderante dell'ultima riforma del sistema pensionistico sulle cessazioni dal servizio, tanto per ciò che attiene alla gestione degli organici. A riguardo, come ho già annunciato alle settime commissioni congiunte, è allo studio la definizione di un nuovo piano triennale di immissioni in ruolo 2014-2017 del personale precario che consenta di ridurre il numero di soggetti che ancora prestano servizio nella scuola con contratti a tempo determinato, nonché misure per introdurre gradualmente e compatibilmente con le risorse disponibili l'organico funzionale del sostegno, raggiungere la sostanziale equivalenza tra organico di diritto e di fatto nel sostegno con l'inquadramento in ruolo dei circa 30.000 docenti di sostegno che vengono utilizzati annualmente. E in prospettiva l'organico funzionale come nuovo metodo di gestione degli organici. Grazie Presidente, grazie Signora Ministra. Io non mi ritengo soddisfatto perché risulta evidente da queste parole che l'istruzione sia importante soltanto nel periodo preelettorale e che una volta finito il periodo elettorale a urne chiuse sembra che ce ne dimentichiamo, sembra che non ci interessi più. Questo chiaramente non è una responsabilità sua, Signora Ministra, questo sia chiaro. Credo che questa sia responsabilità del Governo in generale perché lasciando stare le iniziali e propagandistiche dichiarazioni del Presidente eletta, che è a capo del Governo appunto, anche per queste legislature il settore scolastico con ottima probabilità sarà il luogo ideale da cui attingere fondi per lasciare spazio a temi più importanti per lo sviluppo del nostro Paese. È una questione di priorità. Quello che viene chiamato piano triennale di assunzioni, così come previsto, non potrà essere utile ad assicurare l'assorbimento delle masse di personale precario all'interno della scuola, come da lei dichiarato in sede di Commissione, dal momento che tale massa si compone circa 300.000 unità, cifra ben lontana da quella per la quale sembrerebbe vogliate impegnarvi. L'assorbimento futuro oltretutto non avrà luogo tra sole gradatori e personale precario, ma andrà a comprendere al suo interno anche i posti previsti per l'assunzione del personale vincitore del concorso pubblico per la scuola e il personale uscente dal tirocino formativo attivo, sia ordinario che speciale, aumentando ulteriormente la distanza fra le cifre qui riportate. Soprattutto è parzialmente incomprensibile tutto ciò se si considera l'impegno finanziario previsto all'assorbimento del precariato che è grossomodo simile a quelle retribuzioni attuali e annuali. Avremmo auspicato un vero segnale forte, così come da lei dichiarato. Avremmo auspicato un cambiamento alle politiche dei governi assunti in questi anni, argendo la del precariato scolastico, ridando allo stesso tempo dignità della scuola e a chi da anni, con professionalità e sacrificio, opera al suo interno. Concludo dicendole che in ogni caso noi in parte siamo consapevoli, siamo certi della buona fede del Governo, per cui mi prodicherò a riportare la sua risposta ai vari comitati di precariato scolastico e spiegherò loro che resteranno precari perché non sono avanzati i soldi al finanziamento dell'Expo 2015, dei rimborsi elettorali, delle rimborsi all'editoria, delle province, degli F-35, della guerra in Afghanistan.